vi proietteremo fra poco amici telespettatori un filmato dedicato al circo ma possiamo definirlo un filmato d'epoca molto ben datato allora siccome dopo vi daremo l'anno in cui è stato realizzato questo filmato voi qui presenti amici presenti al teatro tenda strisce seguite con molta attenzione ed ora per i piloti il famoso jongler angelo piccinelli si tratta di angelo piccinelli più grande giocogliere del mondo allievo del grande rastelli che partecipa a questo film di mario mattoni tanti anni fa grazie